Vincenzo Serraiocco, oggi venerdì 4 dicembre, possiamo dire che per Giulianova e per il Giulianova inizia un'altra storia? Sì, sì, l'avevo già promesso ai tifosi un mesetto fa quando eravamo in grossa difficoltà, ho detto datemi fiducia. Siamo insieme, uniti insieme nel Fadini, anche domenica, ne voglio tanti, ne voglio tanti per supportare questo Giulianova. Inizia un nuovo cammino e non finiremo qua. Siamo stati i primi che hanno preso 4 giocatori importanti, di peso, di categorie e anche oltre. Siamo in trattativa con altri giocatori, con il direttore generale che ho sentito quotidianamente anche quando ero fuori. Pensiamo di dare un buon inizio, se non un inizio importante, a questa città che ritorni alle categorie che merita. Oggi soffriamo, fino a maggio soffriremo, soffriremo nel senso che dobbiamo vincere per salvarci, il prossimo anno invece vinceremo per fare qualcosa di più importante. Senta, ma è vero che per Ganci la strada poi non è così in salita come si pensava fino a qualche giorno fa? Assolutamente no. Massimo è un giocatore che a me piace tanto dal punto di vista sportivo, nonché anche personale. È una persona che sento quotidianamente al telefono. Ci tiene a ritornare in Abruzzo, ci tiene a ritornare a Giulianova e spero che possa portare i colori del Giulianova. Ganci, Giglio, chi è più vicino oppure tutti e due? Ganci, Giglio, ce ne sono ancora altri, sono tutti vicinissimi, poi deciderà il Giulianova. C'è anche la presentazione di un nuovo sponsor, l'Anno Zero Service, che vi darà una mano in questo progetto nuovo. L'Anno Zero Service è una realtà impenitoriale di livello nazionale, in cui mi stringe un rapporto di amicizia. Sono contento che hanno scelto di essere vicino al Giulianova. Non me lo aspettavo, quindi li ringrazio doppiamente per il fatto che si avvicina a una città così piccola per una società così grande.